Salve a tutti amici di Marco's Box e benvenuti in questa puntata fuori programma di 4 chiacchiere internet in modo open source Fuori programma per parlare di un argomento che mi sta ultimamente a cuore Che non c'entra tanto con il mondo di Linux ma più che altro con il mondo in cui noi viviamo ultimamente Lo spunto me l'ha dato questa mattina un post di Marco Persi che pubblicizzava L'arrivo di un nuovo gadget di Amazon Dash che praticamente che cos'è? E' una specie di barcode scanner, una cosa fatta così tipo una penna Che serve? Serve appunto come barcode e voi state in casa, vi finisce la Nutella, vi finisce qualche altra cosa Scannerizzate il barcode oppure pronunciate tramite voce quello che vi serve Questo qua viene memorizzato, fa una lista della spesa E' nelle città campione perché adesso il sistema funziona soltanto in alcune città degli Stati Uniti Leggo, mi sa, di Los Angeles, San Francisco Ah no, anche Seattle Insomma, è soltanto americana per adesso Tramite il quale i clienti Amazon Prime potranno acquistare quello che loro pronunciano Cioè quello che loro scannerizzano Fare la lista della spesa e comprare le cose anche, cose fresche tipo appunto generi alimentari E tutto quanto altro poi che venne venduto normalmente su Amazon Come giocattoli, elettronica e riviste e quant'altro Che verranno consegnate tramite il servizio Amazon Prime direttamente a casa vostra Quindi non dovete più alzare il cuo per andare a fare la spesa Figata, direbbe qualcuno Cavolo, dico io Perché? Cosa non mi va giù di questa cosa? Non mi va giù di questo fatto che si sta degenerando Si sta spingendo un po' troppo l'acceleratore Piede sull'acceleratore su queste tecnologie che Da un lato sembra che vogliono facilitare la vita degli utenti Ma vogliono trasformarci semplicemente in consumatori Che devono acquistare Devono acquistare anche Devono acquistare da un solo monopolo Non sono grossista Devono acquistare anche le condizioni che dicono loro Dobbiamo proiettare tutta la nostra esistenza Sul digitale, sulla rete Perché non mi piace questa cosa? Perché? Perché appunto si sta perdendo di vista il gatto umano delle persone La tecnologia, sì va bene Però la tecnologia è uno strumento al servizio dell'uomo Non deve prendere il sopravvento sull'uomo Con queste trovate Io la trovo Perché diciamocelo francamente Abbattete il gatto umano di andare a fare la spesa Cioè vi pesa così tanto il culo di non dover andare a fare la spesa A fare un attimo una fila da castro Che stava male Che tanto montano tutte con l'altra calzata Sono tutti quanti a pagare il banco Quindi non sta manco più il dover contare gli spicci Basta che dovete digitare il codicino E la cassiera deve passarvi i prodotti sopra la cosa Quindi si sono poi ridotti i tempi di attesa delle casse Stanno le casse veloci per chi è paranoico Che deve andare subito a casa Perché va di fretta e con mania bella Come dicevo Questo abuso di tecnologia anche nelle cose più semplici Come andare a fare la spesa La spesa è una cosa di socializzare Andate alla spesa Andate e incontrate la cassiera Scambiate due chiacchiere Parlate con i sagumi Non ci parlo di sagumi Perché sono vegetariano Però dico Parlate con il bruttimento Parlate con Con quello che incontrate al supermercato Con quello che incontrate al banchetto rionale Perché tutti vanno al supermercato E fate bene Per tentare I prodotti locali Che è sempre una cosa giusta E vantaggiosa per voi E per l'ambiente Si perde appunto questa possibilità Perché Noi dobbiamo diventare tutti quanti tecnologici Dobbiamo sempre essere sempre connessi Dobbiamo consumare Dobbiamo comprare online Tutto Tutto quello che ci fosse a b Basta Basta Io francamente mi sono scacciato E ho paura In un futuro come questo Mi viene da ricordare Alla fine diventeremo tutti quanti Come i personaggi di WoW Mi sono sempre ricordati Tutti quelli cicciosi Che hanno la loro sedia Che c'aveva già tutto quanto Dove ordinavano Vedevano le cose sullo schermo A proiezione grafica Ordinavano le cose Gli arrivano le cose da mangiare Non si muovevano più E quello è il futuro Che dovrebbe andare a finire Rifettevo poi su un'altra cosa Che nella vita di tutti i giorni Mi sta capitando Camminate per la città Fateci caso Quando camminate per la città Vi vedete tutti I rimbambiti Io li chiamo così Li chiamo Evalescenti digitali Non lo so Gente che sta dalla mattina alla sera Cammina per strada Colgo il telefonino Sembra legge E cammina leggendo Cammina scrivendo Vive con Lo smartphone Lo smartphone è diventato Un'estensione Della propria vita Cioè Dovete per forza Stare a digitare Nella mattina Nella sera Guardare informazioni E quant'altro Anche mentre camminate Io li vedo Sembrano tanti deficienti Sembrano Lo smartphone È uno strumento Ti può servire Per avere un'informazione Su un luogo Ti può servire Per scambiare una cosa Per leggere un messaggio Importante Di posta elettronica E poi Così importante Che non potete arrivare a casa E fa Vabbè Comunque Un messaggio importante Di posta elettronica Un messaggio Della vostra amorosa Ma non che dovete stare H24 Comunque camminate Con sti cacchio Di smartphone in mano A leggere chissà cosa Scambiare i messaggi Su chissà cosa Tutte queste informazioni Perché vi servono Non vi servono a niente Ho detto È triste vedere Gente che cammina per strada Con gli sguardi Fissi su uno schermo Vi perdete Vi perdete il paesaggio Vi perdete le piante Vi perdete il cielo Vi perdete i rumori Vi perdete Vi perdete anche Quello che c'è di bello Nella vostra città Io quante volte Vedo persone Che magari Fanno i turisti Vanno nella grande città E dico Ma quanto è bello Quello edificio Ma quanto è bello E magari dici Scemo di merda Nella stessa città tua Ci sta un edificio Che magari è ancora più bello Perché tu non lo noti Perché tu stai sempre distratto Che devi pensare ad altre cose Devi pensare a guardare lo smartphone E ti stai perdendo la notizia Perché è la notizia così importante È la notizia così della vita Che non puoi aspettare Per andare a vedere Tranquillamente Quando stai bello Rilassato Svaccato Svaccato Poi Altra cosa Girano tante di quelle vignette Su internet Per quanto riguarda Come si vive A giorno d'oggi Anche nelle case Stanno le feste Le feste comandate Uno di solito È un'occasione Per rivedere tutta la famiglia Per chiacchierare Per dire le proprie cose Invece Te ci vedi Che gente Mi è capitato Ti ci vedi gente Parenti Che stanno alla festa Hai l'occasione Per parlare Per discutere No Con lo smartphone Cazzo fai Stai con il parente Parlaci Cazzo Ti vedi una volta L'immorto di papa Parlaci Non ti mettere Non mettere un muro Tra Tra Il contatto umano Tra Il contatto umano Mettere un muro Che è il smartphone Perché Che Che Cosa Cosa di tanto importante Che non puoi discutere Con il proprio Con il proprio parente Non lo so Gli autobus Un tempo Erano carini Gli autobus Perché uno Si sedeva Si sedeva qualcuno A fianco a te E uno iniziava A attaccare il bottone E parlavi del più Nel meno Magari scoprivi Che è quello Apparente a uno Che conosce O magari Facevi amicizia Conoscevi ragazze Conoscevi ragazzi Mo no Mo te li vedi Pure sugli autobus Sugli smart Sugli mezzi di trasporto Che cazzo fate Cioè Volete parlare Con il prossimo Mi state isolando La gente si sta isolando Sempre di più Con la tecnologia Non pensano Non pensano più Ai rapporti Tra le persone Perché Perché c'è sempre Questa tecnologia di mezzo Che sta diventando Un abuso Parliamoci Cioè Questo lo vedo Soprattutto nei giovani Io non sono più giovane Diciamo così Perché sono comunque Vecchia Vecchia classe Sono nato Gli anni 80 Quelli dei Quelli Delle nuove generazioni Quelli più giovani In c'è Che stanno sempre Con questi Sti device In mano Ho detto Nativi digitali Nativi digitali Che Cioè Sono Sono gente Schiavizzata Dal digitale Per non parare Poi del fatto Che come diceva Corridotto Stanno cercando Di inculcarci Sempre di più Questa Questo controllo Perché noi Dobbiamo utilizzare Questi device Elettronici Meno evoluti Per poter fare tutto E cose del genere Ditemi la vostra Se la pensate Così anche voi Io personalmente Ve l'ho detto Tutta questa tecnologia Tutto questo Strapotere della tecnologia Tutta questa Tecnologia Che va a redere I rapporti personali Tra le persone Va a redere Anche posti di lavoro Perché Amazon Prime Comunque Questo sistema Di vendita Anche di roba Da mangiare E cose del genere Cioè Rovina 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 il mercato locale Rovina Rovina anche I commercianti Cioè Io pure Ho preso qualche cosa D'Amazon Ma ho preso qualcosa Per così dire Che non era Comunque strettamente Cioè Che non si riusciva A trovare facilmente Però Viedo tanta gente Che su online Non soltanto su Amazon Ma anche su tantissimi Altri siti online Comprano soltanto online Ma Andare nel negozio Parare col commesso Magari Farvi consigliare Cose del genere È così tanto Tanto brutto Cioè No cosa io Non le capisco Le persone Un tempo era Tanto bello Che tu andavi Potevi farti consigliare Su un prodotto Come devi Contestare No ma tutto digitalmente Mi do la revisione La review su internet E me lo rompo Me lo ordino E mi viene E mi viene portato a casa E il rapporto interpersonale Tra le persone Cavolo Sono andato a finire E poter scambiarsi Consigli Potersi scambiare Niente È sparito Perché noi Dobbiamo vivere tutti Tutti sempre connessi Ovunque In qualsiasi cosa Stiamo al cesso Stiamo con i tablet Con lo smartphone Perché è così Cioè Lo smartphone Tutti Ogni mattina Uno si svegliava al cesso E sta con lo smartphone In mano Non si sfogliano Anche più le riviste Una volta si sfogliava la rivista Che uno sarà sfogliava bello Così Ma no Ma magari si farà abbonamento Alla rivista digitale Eh ma è più comoda Me la posso portare Sempre con me Oh cacchio Cioè Il bello della rivista Che uno si sfoglia le pagine Si vede bello Le stampe Si vede bello Le cose No No Tutto digitale Dobbiamo tenere Dobbiamo tenere la rivista digitale Dobbiamo tenere il libro digitale Il libro digitale Poi è un'altra cosa Che io per esempio oggi Il libro è bello Perché uno se lo sfoglia Se lo legge È una cosa Un rapporto morboso Con il libro Il libro è mio Me lo sfoglio a un modo mio Me lo piego a un modo mio Mi ci metto le note Come voglio io No Adesso devo tenere il libro digitale Con le note interconnesse su internet Che magari Chi Chi che sia Che gestisce il servizio online Può anche sapere Che cazzo di pagina Sto leggendo in quel momento Può sapere Il contenuto del libro Che sto leggendo Non può anche inquadrare come persona Non dire Se io voglio leggere Instagram Magari È una cosa che Che voglio far rimanere Segreta Tra me magari E Chi mi ha venduto il prodotto No invece Tutte le informazioni Che noi dobbiamo dare Tutti Appunto Modi anche Di staccarsi dalla realtà Tutto di proiettare sullo schermo Tutto in digitale Tutto Tutto Il denaro digitale Oggetti di Riviste digitali Fare la spesa digitalmente Cioè La vita è fatta di contatti Tra le persone Se non ci sono i contatti Tra le persone Che c'è Non mi va soltanto Chattare Per esempio Un'altra cosa Che mi dà facile Ah mi sono sentito Con quel mio amico Dove hai abituto l'amico Abita Nella stessa città tua Perché non ti incontro E ti ci parli No Ci mando la whatsapp Ci mando il messaggio vocale Su whatsapp Ci mando La mail Ci mando quello Stai nella stessa città Cazzo Incontrati con l'amico Fai due chiacchiere dal vivo Fatti una sana risata Una sana risata No Ma tutto quando I rapporti anche questi Tutti quanti digitali Digitali Posso capire Se c'hai un amico Che vive a 700 km di distanza 800 Di distanza Mi fa piacere Poteva utilizzare Uno strumento tecnologico Per separare la distanza Ma no Quando ci sono vicinanze Ma tutti su facebook Tutti a postare le notizie Su facebook Le notizie si stanno così Non c'è più Il passaparola di una volta Ma c'è Tu non scrivi la cazzatina Su facebook Mi si è bucata La quota della macchina Oh hai visto Poi ci si incontri Oh hai visto Mi chiede se è bucata la quota della macchina Ah se è bucata la quota della macchina Eh sì L'ho visto ieri Non ho stato vedo Queste sono La vita che vogliamo fare Ovviamente questo discorso Non è fatto in vivo Ma è fatto poi Tra persone che si incontrano Su facebook Sulla chat E dicono Ah ho visto Che sulla chat Mi chiede se è bucata la quota della macchina Cazzo Cioè Come vi ripeto Questo abuso Della tecnologia Che sta distruggendo I rapporti personali Voi Che cosa ne pensate A riguardo Lasciate un commento Sul video Fatemi sapere la vostra Un saluto a tutti quanti Lunga vita e prosperità E ciao ciao